Ragazzi, ragazzi, buon pomeriggio. Sono le 7 di sera, lo so, abbiamo avuto da fare oggi. Siamo stati invitati e di video non abbiamo fatto neanche zero. Però guardate, ho trovato finalmente un esemplare raro di vacca suina arenata in un letto. Guardatela. Ragazzi, ditelo a voi, non c'è né vacca né suina. Lei è un mix tra suin vacca, suinacca, vacca suina. Vedi che sono oscolosa. Perciò, lo so, il video viene sempre sminchiolato, viene sempre arruffato, arronzato, azzanzato. Breve, breve, dai. Però oggi, signorino, non vuole andare in palestra. Io? Tutta una serie del gruppo che non si va in palestra. Uh, non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno da terra. Tutta una serie del gruppo che non vogliono andare in palestra, non si va in palestra. E quindi vogliono andare a mangiare. E' ovvio. Ma è normale. Comunque, oggi è Santa Rita, lo so che voi lo vedete domani. Comunque, chi lo vede domani, auguri passati. Auguri a tutte le rite. Rite? Rita. A tutte le rita. O alle domerita. Un ragazzo con la lingua rossa. E' tagliata. Oh, scusami. Stava parlando. Eh, grazie. Dicevi? Narra, narra. E niente, ho già detto che volete filonare, filonare la palestra ogni volta per andare a a fare il mio figlio. Oh, è una terza già. Oh, e quanti barri mi fai vendire? No. Sì. Beh, dicevi? Eh, non ci ho detto. Quante volte lo devo dire? Ah, è basta. Oh, e il gruppo non vuole partecipare. Telefono, eh? Così sembra. Scusate. Tolliti Lily, ben due as well. No, non è bene. No, non era il telefono. Perciò, avremo poco da riprendere oggi, ragazzi. No, prendiamo il video quando stanno sbranando la pizzeria con tutti i clienti. Quattro concorrenti. Chi sbranerà di più stasera? Solo uno rimarrà sbaccato sul tavolo e sarà il vincitore. Un ragazzo dal pazzoletto al nase. Wow, della crema. Dai, che schifo. Salata è. Beh. Dai, dopo renderemo pubblico il nostro... Il nostro svaccarci, mangiare. Sgarrare. Sgarrare. Con la speranza che i nostri istruttori non li vedano, perché sennò oltre che sgarrare. Poi ci mettono non dieci minuti sul tapirulano, venti minuti, un'ora solo di tapirulano a correre. E poi, in tutto il resto degli esercizi. Aiuto! Mi sono lanciato come un fringuele, mi sono lanciato. Perché te lo fai a fare? Allora, va bene, cara. E' visto il fiumone, guarda cosa che c'è un macchino è fatto. Ah, io poi sono stato al braccio. Bene, ragazzi, siamo... Siamo a casa. Siamo a termine. Ah, sei già tutto a termine. Eh, dai. Perché oggi... Proprio il video è stato... Il video è stato proprio... Onestamente, ragazzi... Il video è sensabile. Non è che... La voglia c'è di fare il video, però... Sono delle giornate che sono così intense, così piene, così... Che non fai un cacchio. No. Che cosa? Che non fai un cacchio. Ma che stai dicendo? Siamo tornati? Vi devo dire la verità, perché onestamente... Io non so dire le bugie. Non siamo andati in palestra. Da niente. Siamo andati a... L'acido è riuscito. Siamo andati a mangiare una puccia. Lo so, lo so. Sicuramente alcune persone diranno... Eh, vi ho scritto ieri che è l'impegno... Mettersi l'impegno... Lo so. Lo so. È inutile che fate i professorini. È stata una giornata intensa. Avevamo bisogno di energie. Ok? Ok? You respect me, you respect you. Mi respect. Mi respect you. Comunque... Comunque... Non lo direi che fai prendere paura... No, no, no. Perché uno dice... Eh, ma io... Fai piante! Lo sape! Ha ragione che ti spunti nel dito. Sì, ho capito. Mi possono buttare il dito. Però... È stata una giornata... Avevamo bisogno di energie. Di sentirci... Porcelloni. Di dover mangiare... Dice la nostra amica... Di sentirci Peppa Pork. Peppa Pork. Una piccola puccia, dai. Però... A me, onestamente... Non mi è piaciuta per niente. Perché era... Dura... Rusciacchiata... Invece io mi sono preso... Un... Pika Pikachu. Un Pikachu. I... P... Un Pikachu... Caprese. Un Pikachu Caprese. Cioè non sanno come cacchio farle queste cose. E fanno il panzerotto di quello con le patine di osse. Questo è il Pikachu. Poi fanno il panzerotto con pomodoro, mozzarella e crudo. Eh, questo è il Pikachu Caprese. Poi fanno... Il Pikachu alle quattro stagioni, il Pikachu boscaiolo, il Pikachu... Il Pikachu indiavolato. Ah, tutto ha Pikachu eh. Il Pikachu. Oh, io ho detto... Mi dai quel panzerotto ripieno? Ah, vuoi il Pikachu? Il Pikachu? Ma adesso... Ma ti guardi allo specchio che hai 35 anni, stai dietro a un bancone... E mi dici vuoi il Pikachu? Eh, qual è il nome che ti hanno usato? Ah... Pikachu. Comunque, comunque... Domani si va in palestra anche se è venerdì. No, no, domani si va. Si è detto che si va. Eh. Eh. Non si sgarra. No. E niente, abbiamo passato una serata con gli amici. Non fare le parole, sei pesante. Eh, ma no, scusa, mi blocco certe volte. Tu che stai facendo già? Sto vedendo le mie notifiche su Facebook. Lei si guarda le notifiche. Beh, ragazzi, sono Luna. Da quel che vedete. E il video di oggi termina qui. Iscrivetevi al canale. Commentate, condividete. Mettete un mi piace. Eh? Ciao, ciao. In sorriso, in sorriso. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao. E un bacino, non glielo dai. Certo. Dai che poi tu sei geloso se mandi bacino. No, no. Vabbè, poi ve lo dico in privato. C'è un francese. Ha scritto in francese. C'è te come bella, cos'è il genere, bla bla bla. E ho tradotto, io subito ho tradotto. Come una cosa, sono cotto di lei. E io ho scritto, François. E' geloso, ragazzi. Però, ma... Senta fem. Senta fem, come si dice? Sema fem. On the vu, 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 on the ma fem. Cioè, lui la rivendica in mio amore. Quando vuole lui. Ah, ragazzi. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao. Ciao a tutti, ancora buonanotte. Ho fatto il bacino? Ma tornami, una serie di bacini, è mitraglia proprio. Ciao, un bacino a me? Ciao. Ma no, è brutto. Ciao. Ciao amici. Non vuol dire una tradizia. Ma dal uomo si è comunista. Ma se è sì. Siamo tornati. Siamo tornati e ci prepariamo la nostra insalata.